Esercitazioni di pronto intervento e simulazioni su feriti si sono svolte nei giorni scorsi al parco di Lignano. Sono stati utilizzati i mezzi di pronto intervento come elicotteri e ambulanze. Il corso ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco di Arezzo. Il corso è un corso che si è svolto ad Arezzo e ha visto coinvolto per la verità non solo il personale di Vigili del Fuoco di Arezzo, ma è il primo corso regionale, quindi sono stati inviati due unità per ogni comando. Quindi è un corso destinato a 20 persone, poi c'erano anche altri specialisti, quindi gruppo cinofili e altri. All'interno di questo corso, che è un corso finalizzato alla topografia applicato al soccorso, era previsto anche un'uscita, quindi un'esercitazione pratica, perché evidentemente sono nozioni teoriche e pratiche. Si è svolto a Lignano e abbiamo in questo caso messo in pratica tutte le nozioni teoriche dall'utilizzo del GPS, all'utilizzo della bussola. In questo caso la finalità era una ricerca a persona simulata, che quindi tra l'altro è stata individuata anche da un cinofilo sempre di Vigili del Fuoco. I compiti dei Vigili del Fuoco oggi sono sempre più diversificati rispetto al passato. Ecco, questo corso riassume un po' in fondo questa filosofia? Assolutamente sì, diciamo che i Vigili del Fuoco si devono assolutamente adeguare con i tempi, devono essere sempre aggiornati alle nuove tecnologie e alle nuove tecniche. È chiaro che in questo caso l'utilizzo di GPS, cartografia, georeferenziazione, è tutto un sistema nuovo di gestione del soccorso, perché anche per chi deve decidere, quindi un roso responsabile dell'operazione di soccorso, avere a disposizione in tempo reale la dislocazione dei mezzi di soccorso, la dislocazione delle unità, fa sì che la scelta sia più razionale per quanto riguarda la finalità e il soccorso.